Ciao a tutti, come sempre sono Giulio e sono qua per parlare di cinema e fare la recensione di un'uscita in un video che è uscito in questi giorni che è I morti non muoiono, nuovo film di Jim Jarmusch, uscito diversi mesi fa, uscito da un paio di settimane all'inizio di ottobre in un video in DVD e Blu-ray. Era da un po' di tempo che Jim Jarmusch non lo vedevamo al cinema perché i suoi film precedenti sono del 2016, uno era Paterson con Adam Driver che è protagonista anche qua nei morti non muoiono e anche in quel bellissimo documentario che era Gimme Danger su Nick Cave. Jim Jarmusch che è un regista, un autore veramente eccentrico e particolare che ha fatto sempre dei film a sfondo anche politico e sociale e siccimente in un genere a loro è tipico che quello è il genere horror zombie. Lo fa a suo modo, lo fa in un modo divertente a tratti anche un po' sgangherato, molto simpatico per fare una metafora della società americana. Il film che dura poco meno di 100 minuti è una commedia horror che parte molto lenta, siamo a Centerville in un paesino sperduto nelle campagne americane come possono essere tanti paesi dell'America, non è geolocalizzato, è in un qualunque posto dove due commissari di polizia, uno è un agente e l'altro è un sceriffo, lo sceriffo è Bill Murray e l'agente che gli fa da spalla è il bravissimo Adam Driver, controllano la cittadina ma fondamentalmente non fanno niente perché non c'è niente da controllare fino a quando succede un evento particolare perché gli animali incominciano a comportarsi in modo strano e nella cittadina cominciano ad apparire degli zombie. L'apparizione degli zombie viene spiegata con un motivo naturale che non vi svelo che secondo me ha un po' così può fare anche riflette secondo me sui cambiamenti dell'ambiente e questo cambiamento naturale appunto dà vita agli zombie perché la luna si avvicina di più alla terra tant'è che vengono fatte diverse inquadrature su una luna molto luminosa, molto bluastra e questi zombie incominciano a infestare la città e creare non pochi pericoli. Quindi questi due agenti e non solo loro, c'è anche il personaggio bellissimo di Trader's Window che è Zelda, diciamo una che si occupa di curare i morti, di abbellirli, di truccarli dopo la morte, il personaggio veramente eccentrico fanno di tutto per sconfiggere questi zombie che per essere uccisi devono essere decapitati. Appunto dicevo che questo i morti non muoiono è una metafora sociale di come la comunità americana, la popolazione americana si è fondamentalmente omologata, abituata alla convenzione, alla quotidianità al fare tutto in maniera molto meccanica al punto da fare questa riflessione, tra i vivi e i morti non c'è differenza per cui praticamente quello che facevano nella vita in questo paesino Centerville che era poco e niente lo fanno anche da morti e questo è il messaggio che viene fuori anche abbastanza bene dal film che ha dei toni molto molto leggeri, ecco è come un po' Zombieland che tra l'altro esce il seguito fra qualche settimana in versione meno scansonata e un po' più sociale e politica però diciamo un po' lo schema è simile anche se in Zombieland si eccedeva in sparatorie, in azione ecco qua invece è ridotto al minimo l'aspetto dinamico anche perché tante volte gli agenti si trovano incastrati in situazioni estreme, c'è una bellissima scena in cui i due agenti rimangono bloccati dentro la macchina e gli zombie tutti attorno che cercano di entrare e loro fanno dei dialoghi abbastanza assurdi nel senso che il Jim Jarmusch non si ferma solo a lanciare questo messaggio sociale e politico ma si diverte anche a giocare un po' tra il cinema e fuoricinema come se non ci fosse la differenza con la macchina da presa ma si potesse colloquiare sia col pubblico sia con lo stesso regista con delle battute che viene chiamato in causa proprio per delle battute che vengono fatte nel film senza soluzione di continuità e questo spezza un po' il ritmo e quello che sta succedendo proprio per creare quel... sfondare la quarta parete per comunicare direttamente con il regista e fargli anche delle critiche. È un film che io l'ho trovato molto divertente e simpatico appunto un divertimento per Jim Jarmusch che sappiamo è abituato ad altri toni, altro cinema, altro stile però ci sta ogni tanto che certi registi di fama mondiale si cimentano in cose del genere secondo me Jim Jarmusch riesce bene oltre al fatto che nel film c'è un cast veramente straordinario appunto detto Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, poi c'è anche Iggy Pop che fa uno zombie il primo zombie che compare è Iggy Pop e tra l'altro il ruolo di zombie gli sta proprio bene con un bel make up, poi appunto c'è Adam Driver, c'è Danny Glover, c'è anche una piccolissima parte di Tom Waits quindi il film che dura appunto poco più di centinaia di minuti si costruisce nella prima parte per poi svilupparsi nella seconda per creare appunto una commedia horror simpatica che raggiunge bene il suo intento e lo fa con una certa ironia anche se qualche scena di sangue la regala. Per quanto riguarda invece i contenuti speciali che fondamentalmente sono tre che sono Bill Murray, star della caccia allo zombie, non scomponetevi, dietro le quinte di Morti non muoio sono tre clip più o meno di totale di 10-15 minuti non tantissimi dove un po' si racconta l'origine del film c'è qualche intervista al cast e poco più. Ecco è un film che a chi piace il genere sinceramente lo consiglio i toni sono un po' diversi dal genere horror ma funziona molto bene. Il film appunto si chiama I morti non muoiono, ultimo film di Jim Jarmusch uscito questa primavera nei cinema e adesso uscito in un video. Per questa recensione è tutto, grazie, iscrivetevi al canale YouTube di Ciberandia e ci vediamo al prossimo video.